Quattro arresti e sei denunci ad Arghilla. Nei giorni scorsi la polizia locale di Reggio Calabria ha svolto un servizio straordinario di controllo in località Arghilla Nord. Le attività sono state implementate nell'ambito del piano nazionale e transnazionale Focus Drangheta e Regimenta Forze. Gli uomini del comandante Zucco, con l'ausilio di tecnici Enel e della società Hermens, hanno ispezionato circa dieci unità immobiliari. All'esito degli accertamenti sono state denunciate sei persone per occupazione abusiva di immobile pubblico, furto aggravato di acqua ed energia elettrica. Quattro persone con precedenti specifici, giudiziari e di polizia, sono stati tratti in arresto e in flagranza per furto di energia elettrica, in quanto alimentavano i loro appartamenti tramite cavi abusivi deviati da cabine stradali di proprietà di Enel. Il valore complessivo di energia elettrica sottratta faraudolentemente al gestore e ammonta circa 35.000 euro. Nell'ambito del servizio sono state altresì sequestrate due automobili perché prive di copertura assicurativa. Trattandosi di procedimento giudiziario ancora in fase di indagini preliminari, la responsabilità degli indagati dovrà essere vagliata e validata dalla competente autorità giudiziaria.